Il mio avversario è Matteo Salvini, che si porta dietro al guinzaglio una candidata. Questa frase, pronunciata dal candidato governatore della Toscana del centro-sinistra alle elezioni regionali di settembre, in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, ha scatenato un vortice di durissime reazioni anche a livello nazionale. Le parole con cui l'attuale presidente del Consiglio regionale si è riferito alla sua sfidante, la candidata del centro-destra, Susanna Ceccardi, infatti, sono state etichettate da molti come sessiste e misogene. Immediata la difesa del leader della Lega, Matteo Salvini, che sui social ha scritto Forza Susanna, toscana coraggiosa, donna di carattere e bravissimo sindaco. Gli attacchi del PD sono medaglie al valore. Sulla vicenda è intervenuta anche la vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, che ha twittato, in campagna elettorale tutto è lecito? No, non si può mancare di rispetto e dare libero sfogo a un linguaggio pieno di disprezzo e misoginia. All'attacco di Eugenio Gianni sui social, anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Paolo Marcheschi. Dopo un giorno di campagna elettorale, Gianni ha già perso le staffe, non regge la pressione. A parte l'abominio di fare un paragone fra una donna che è al guinzaglio e quindi incapace di intendere e di volere, quindi predica bene, razza la male, la sinistra contro il sessismo, mentre loro sono i primi sessisti. Ma poi, la metafora del cane del guinzaglio. Gianni, proprio te, Gianni, hai detto che vuoi aumentare le asle e non te lo fanno fare. Hai detto che vuoi fare i termovalorizzatori e non te li fanno fare. Gianni, c'è anche la museruola, non morde perché non lo fanno mordere, perché deve andare dove il padrone vuole. Anche la diretta interessata ha replicato alle affermazioni di Gianni non voglio fare la vittima. Ha scritto su Facebook Susanna Ceccardi, una certa a sinistra griderebbe allo scandalo se un nostro esponente dicesse a una donna dello schieramento avversario che è buona soltanto a stare al guinzaglio come una cagna. Si leverebbero le grida di indignazione a livello internazionale. Non è questione di uomini o donne, di fasce o guinzagli, ha concluso la candidata del centro-destra. È questione di dignità e coraggio. A me la fascia di dosso non me l'ha mai strappata nessuno, né Renzi, né Salvini, né un facino rosso della sinistra. Lo sappia il signore Eugenio e lo sappiano gli altri. A me e alla Toscana, quando sarò governatore, non metterai i piedi in testa a nessuno.